La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento con la rassegna stampa di Uno News. Partiamo subito con le nostre pagine dei quotidiani, partiamo con il mattino nazionale dalla prima pagina al centro dell'argomento principale di questa prima pagina del mattino nazionale e del mattino, le Olimpiadi di Roma. Ieri è arrivato il no definitivo da parte della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha detto no alle Olimpiadi del mattone, così le ha definite. Vediamo il titolo, Olimpiadi, schiaffo della Raggi, ufficializzato il no, il sindaco di Serta, l'incontro programmato con il CONI. Il campidoglio, i cittadini non le vogliono, Malagò, Virginia, falsa e sgarbata, era al ristorante, chiederemo i danni. Il sindaco di Roma, Raggi, ufficializza il no alle Olimpiadi, i cittadini non le vogliono, queste le parole della Raggi, ma il ritardo all'incontro programmato con il CONI fa infuriare i vertici dell'organismo che abbandonano la sala. Vediamo gli articoli correlati, il commento, la politica al tempo dell'inaffidabilità e poi le idee, la mia vita migliorata dai giochi del 2006. Cambiamo argomento, andiamo sulle inchieste del mattino, dai libri all'Hitec, Milano torna pigliatutto, ma Roma, Napoli e Torino restano indietro. Se ne è poi l'intervista senza contrappesi, il mezzogiorno rischia la deriva, il Rettore del Sud ha bisogno di qualità, non di sussidi, altrimenti i migliori emigreranno sempre. Parliamo ancora di sviluppo, sgravi investimenti per 23 miliardi, il piano presentato dal Premier Matteo Renzi è denominato 4.0. Andiamo di taglio alto, cambiamo argomento, ieri è nuova giornata con il campionato di Serie A, il Napoli gioca al Marassi a Genova dove resta imbattuto, ma torna a casa soltanto con un pareggio, quindi uno 0-0 ieri a Marassi e vediamo il titolo, Napoli derubato, poi Reina lo salva, pari con il Genova non concessi due rigori clamorosi, azzurri sfortunati, traversa di Amsic ma imprecisi, miracoli del portiere nel finale. E poi il punto, torti arbitrali, si inizia presto, mentre per il caso, proprio per questi due rigori negati dall'arbitro D'Amato, Sarri infuriato con gli arbitri, ora parli il club. Andiamo di taglio basso, fortuna, processo gli orchi di Caevano, titolo accusato di omicidio, rischia l'ergastolo, anche l'ex rinviata a giudizio. E ancora il caso, il giardiniele Nirpini ha soldato dell'Isis, un marocchino che viveva a Cervinara e è andato a combattere in Siria. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, andiamo nelle pagine interne, andiamo sulle pagine dedicate alle notizie di primo piano. In primo piano, sappiamo, si parla delle Olimpiadi di Roma, ieri la doppia conferenza stampa del sindaco, della sindaca di Roma, Virginia Raggi, e del presidente del CONI, Malagò. Due conferenze stampa separate, che si sono tenute a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, in cui la sindaca ha spiegato le sue ragioni per il no, definendo le Olimpiadi, Olimpiadi del mattone, e Malagò ha invece ribattuto su ogni punto. Vediamo il titolo, la scelta, Olimpiadi a Roma, Knight di Raggi, il sindaco snobba anche il CONI, da irresponsabili svolgerle, salta l'incontro e cala il gelo. Il ritardo ha avuto un piccolo incidente, poi Virginia ammette che sono stata in trattoria. Quindi anziché recarsi a incontrare il presidente del CONI, che stava aspettando la sindaca in Campidoglio, ha pensato di andare a pranzo, oltre un'ora e mezza di ritardo da parte della sindaca di Roma. E poi torniamo di taglio basso tra Palazzo Chigi e Consiglio Comunale, il secondo tempo della partita, nessun commento da parte del governo, ma si spera nelle divisioni dei Cinque Stelle. E poi il fuoco di file, i democratici all'assalto del primo cittadino, sacrificati gli interessi dei romani. Andiamo avanti, perché tolta insomma Roma, vediamo nello schema, ci sono Los Angeles negli Stati Uniti come possibili candidate, Parigi in Francia, Budapest in Ungheria e poi altre candidate per i prossimi giochi olimpici. Andiamo nella pagina successiva, vediamo quale potrebbe essere il danno per Roma e per l'Italia, per quanto riguarda questo no alle Olimpiadi, vediamo la reazione, un danno di 20 milioni, lira di Malagosi prepara un esposto alla Corte dei Conti, mancata continuità amministrativa. Quindi un danno di 20 milioni, questo almeno è quanto spiegato da Malagò. E poi vediamo la scheda, una e meno, le sultanze di Los Angeles e Parigi che sperano. Intanto potrebbe esserci anche un danno dal punto di vista occupazionale, perché si parla di 177 mila posti di lavoro che sono andati in fumo, martedì l'ho vista, poi il volta faccia, così vanno in fumo 177 mila posti di lavoro. Parla Bianchetti, ex schermatrice, vicepresidente del comitato, non escludiamo di correre da soli. Quindi lasciamo il tema Olimpiadi, andiamo avanti e parliamo ora di economia. Entriamo quindi proprio nel tema dell'economia, perché intanto si stimava una crescita del PIL per l'Italia di oltre un punto percentuale, invece arrivano i dati dell'Ox, che invece parla ancora una volta di un zero punto. Vediamo infatti il titolo PIL, anche l'Ox taglia le stime per l'Italia. Nel 2017 si crescerà appena dello 0,8%, pesa quindi lo scarso rilancio del mercato del lavoro. Le banche allarme sui tassi bassi, Fed e BCE rivedono il costo del denaro e poi per la flessibilità va rivisto il patto dell'Unione Europea che è troppo rigido per favorire la ripresa. Intanto invece in Gran Bretagna l'effetto Brexit tanto temuto invece fa salire il PIL, fa rivalutare il PIL con le stime in rialzo. Vediamo infatti Gran Bretagna, stime del PIL in rialzo, l'effetto Brexit non ha inciso sulla crescita, recessione per la Gran Bretagna lontana dopo proprio l'uscita dall'Unione Europea. Vediamo poi il Giappone, costo del denaro fermo, si punta ora al controllo dei rendimenti dei bond per aiutare le banche. Quindi vediamo poi nello schema che l'Italia, mentre il resto del mondo e il resto dell'eurozona sale con il PIL a 1,5-1,4%, per l'Italia 0,8%, con le stime per il 2017 erano previste 1,4%, salirà dello 0,8%. Queste le nuove stime dell'Ocse per quanto riguarda il PIL. Lasciamo le pagine del mattino nazionale, andiamo sul mattino di Salerno, parliamo della festività di San Matteo. Ieri il santo patrono di Salerno si è festeggiato a Salerno, ma ci sono polemiche. Vediamo il titolo, San Matteo più forte del comune, gli amministratori disertano pontificale e processione, ma è festa di popolo, strade affollate, le funzioni religiose negate anche ai gonfaloni di Palazzo di Città e Provincia, l'Arcivescovo, ecco il cuore di Salerno. Gli articoli correlati, la nota, istituzioni a osservanza variabile, mentre per il commento la politica muscolare che diventa un fantasma. Sempre di taglio alto, di spalla, addio a Don Luigi, il parroco della misericordia, vado via povero. Per quanto riguarda la scuola, cambiamo argomento, caos nomine, 424 cattedre ancora senza docente, mentre per la cronaca la moglie del boss libera con il pressing del garante, scarcerazione anticipata per la compagna di Ciro Villacaro, il tutore dei diritti dei detenuti, aveva aperto l'istruttore legale, nessun legame con il clan. Ancora il processo, abusi sessuali su due sorelle, mamma indagata, mentre di taglio basso Sannino Coda, lite in allenamento, poi pace fatta, tensione salernitana, il bomber sbotta dopo i rimproveri del mister. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno, scusate, ora andiamo ad approfondire alcuni temi. In primis parliamo del caos nomine per quanto riguarda la scuola in questo inizio anno scolastico 2016-2017. Vediamo il titolo, caos nomine, 424 cattedre senza docente, buchi negli organici degli istituti superiori, corsa contro il tempo per coprire i posti. E poi lo scenario, al lavoro gli uffici dei vertici regionali e provinciali, presto soluzioni. Intanto di taglio basso, per quanto riguarda invece la sanità, al Ruggi, rinforzi in corsia, assunti 52 infermieri, sono i primi nella graduatoria della selezione che si è chiusa pochi giorni fa il reclutamento per bando dopo la disdetta dei contratti interinali. ingressi, entro la metà di ottobre si aggiungono anche 13 operatori sociosanitari. Lasciamo anche questa pagina, andiamo avanti, andiamo sulle pagine del Cilento e del Vallo di Diano dove di taglio basso troviamo una notizia che interessa Sala Consilina, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina, il processo per presunti abusi sessuali su due sorelle minorenni, infatti vediamo abusi su due sorelle minorenni, questo è il titolo, l'accusa a tre persone rischiano il rinvio a giudizio, violenza sessuale, indagine sulla madre, il patrigno e il fratellastro. E lasciamo anche questa pagina, andiamo avanti, lasciamo il quotidiano il mattino e andiamo ora a sfogliare il quotidiano Metropolis. Partiamo dalla prima pagina, il titolo di apertura, anche in questo caso si parla della festività di San Matteo, abbandonato San Matteo, questo è il titolo e Moretti non entra nel comune, si ferma con il braccio del patrono sulla soglia, comune, provincia e governatori assenti alla processione. Continuiamo, droga in città da Varcaturo, insette alla sbarra e sempre a Salerno, poliziotta morta, no del giudice all'archiviazione. Di taglio alto, si torna a parlare delle fonderie Pisano, fonderie Speranza e Appelli, altra notte sui tetti per i lavoratori, il vescovo alle istituzioni, non lasciate soli gli operai. Martedì a Roma, il vertice al Ministero sulla delocalizzazione della fabbrica. Centro pagina, mercato San Severino, tresche botte al bar, amanti sorpresi dai coni, uggillite e corsa al lotto. A Vallo della Lucania, interesse elevati bancari nei guai, chiesti sei abbrevati, sei funzionari bancari hanno chiesto il rito alternativo. Sele, liceo, cariello, striglia francese, il sindaco di Eboli, banchetta, la collega di Battipaglia. Spostiamoci di spalla, Salerno, addio Don Luigi, parroco di tutti, ha servito per 39 anni la comunità di Torrione Alto. Ancora Salerno, Scarano rischia di perdere beni, la procura punta sulla confisca e a fuorni il caos in carcere, caccia al detenuto, Magrebino rischia il linciaggio salvato da 30 agenti. Di taglio basso, su questa prima pagina si chiude con la Salernitana, nuovo mal di Arechi per l'Otito e Galeazzi boccia il presidente Salernitana, la strana assenza allo stadio. Andiamo avanti, andiamo nelle pagine interne e vediamo le notizie provenienti dalla parte sud della provincia di Salerno. A Vallo della Lucania, tassi di interesse illegali, sei bancari alla sbarra, i vertici della Banca del Cilento chiedono lo sconto di pena al giudice Campanile. E poi altre notizie che interessano il nostro territorio, a Roscigno sequestrate due piantagioni di marioana, i militari del nucleo operativo della compagnia di Salaconsilina, comandante dal tenente Davide Acquaviva con il supporto del personale del nucleo elicotteristico Carabinieri, ha individuato due coltivazioni di marioana. Nel Vallo di Diano, ancora cronaca, violenza a due minori, in tre alla sbarra. E con questa pagina e con queste notizie del Vallo di Diano ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto dei nostri quotidiani. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra rassegna stampa, andiamo a sfogliare le pagine del quotidiano alla città. La prima pagina si parla della festività di San Matteo, ha fatto tanto discutere l'assenza della politica del sindaco, così come del governatore della regione Campania, l'ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Vediamo il titolo San Matteo, lo sgarbo del comune, nessun rappresentante alla grande festa popolare in onore del santo patrono. La motivazione pare sia stata l'impossibilità per la statua del santo di entrare all'interno del comune come era solito fare. Vediamo ancora le notizie correlate. La processione stupore e proteste per le assenze dei rappresentanti istituzionali. Il pontificale nel Duomo si invoca la clemenza di Giove e poi dentro le celebrazioni non potevamo proprio mancare. Questo è l'argomento principale per il quotidiano alla città. Ancora di taglio alto si torna a parlare della delocalizzazione delle fonderie Pisano. Mano tesa ai comitati. Pisano vogliono un incontro per riaprire i residenti scettici. Non sono credibili. E poi di spalla la chiesa in lutto. Addio a Don Luigi, il sacerdote amico dei fedeli. Oggi i funerali a San Cipriano. Di taglio basso torna libera Lady Villacaro. Scarcerazione anticipata per la moglie del capo clan a Salerno. Mentre per quanto riguarda invece il calcio, la serie B con la Salernitana, avvio shock, la media di Sannino è la peggiore da quando è allenatore. Questa è la prima pagina di la città. Andiamo avanti, andiamo nelle pagine interne di primo piano e parliamo proprio della festività di San Matteo a Salerno. Dispetto del comune, ma è festa del popolo. L'amministrazione diserta la processione e non invia neppure il gonfalone. La provincia inspiegabilmente si accoda. Il patrono sfila tra due ali di folla. Lo strappo è consumato. La processione di San Matteo, targata 2016, sarà ricordata come la prima nella storia della città orfara dei suoi rappresentanti istituzionali e di quei simboli che segnano l'identità di una comunità. Dopo settimane da psicodramma fatte di autorizzazione concesse e poi negate, cavilli burocratici, impegni improrogabili a cui non potersi sottrarre, anamnesi sulla patria potestà del proprio credo religioso, sbandierato al grido di libera chiesa, il libero santo. Il finale a cui i salernitani hanno assistito è stato impietoso, così lo definisce l'autore dell'articolo sulla città. Andiamo avanti, quindi cambiamo argomento, lasciamo la festività di San Matteo, il santo patrono di Salerno e andiamo nelle pagine del Cilento e del Vallo di Diano. Sorelline vendute ai pedofili nel Diano, sotto inchiesta la madre, il patrigno e il fratellastro, le piccole già allontanate dai carabinieri, fissata l'udienza dal GUP, violenza carnale e molestia nei confronti di due sorelle minorenne e questo è il capo di accusa, mosso dalla procura di Lago Negro nei confronti della mamma delle due bambine del patrigno e del fratellastro. Il prossimo 5 ottobre al Tribunale di Lago Negro ci sarà l'udienza preliminare. La vicenda ha avuto inizio circa tre anni fa. E ancora a Roscigno la cronaca sequestrata una maxipiantagione di droga, il nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Sala Consilina ha individuato in località Monte Bruno nel comune di Roscigno due piazzole ben mimetizzate tra la fosta vegetazione composte da 132 piante di cannabis indica. Continuiamo Camerota, cade dal balcone di casa, grave un 47enne, l'incidente nella frazione di Licusati, l'uomo era uscito dalla stanza per fumare una sigaretta. E ancora a Roscigno servizi scolastici confermate le scuole medie e l'asilo. Queste alcune delle notizie che troverete sul quotidiano La Città di questa mattina. Ora andiamo a sfogliare le cronache. La prima pagina comune, nuovi indagati, un'altra inchiesta sta per scuotere palazzo di città. Riguarda il progetto di colle Bellaria nel mirino della Procura e il concorso di idee. L'ipotesi di reato è di turbativa d'asta. Sito di compostaggio si attendono sviluppi dalla Procura dopo la dura relazione di Cantone a Salerno. Quindi un'altra inchiesta sta per scuotere palazzo di città. In questo caso riguarda colle Bellaria emessi secondo indiscrezioni avvisi di garanzia anche per tecnici comunali. e anche le cronache parla della festività di San Matteo. San Matteo è più forte, Napoli e Canfora, Ignavi e Codardi. Comune e provincia disertano il pontificale al Duomo e nel pomeriggio nessun rappresentante ai gonfaloni. Vergognoso atteggiamento aggravato dall'assenza dei vigili urbani e delle transenne. Il sindaco si è nascosto per nascondere le sue gravissime responsabilità. Questo è l'attacco duro di Le Cronache per l'assenza delle istituzioni alla festività del Santo Patrono San Matteo, il Santo Patrono di Salerno. Andiamo avanti con le altre notizie. A Mercato San Severino gli amanti di Siano scoperti dei coniugi. Rissa nel bar a Scafati, gestione disabili, il bando da Cantone. E poi il braccio di ferro con Nocera, Caos Mercato, Paolillo attacca, Pagani va dall'82% degli introiti. Le notizie in breve riportate di spalla. Funerali alle 16, è morto Don Luigi, il prete più amato era parroco a Torrione. E poi Cariello contro la francese ed è polemica a Battipaglia, mentre a Pompei Piazza Immacolata denunce e sanzioni. Questa è la prima pagina di Le Cronache. Sfogliamo ancora il quotidiano. Andiamo a vedere invece come parla della festività di San Matteo dopo l'assenza delle istituzioni alla processione. Vediamo il titolo, schiaffo a San Matteo. Non ci sono i gonfaloni. L'ordine dall'alto viene rispettato da Napoli, giunta e gran parte dei consiglieri comunali, inspiegabilmente anche la rappresentante della provincia di Salerno, quindi il presidente diserta la processione. Cosa c'entra nella guerra tra Moretti, e De Luca. È la prima volta che accade. Il sindaco dichiara di essere impegnato, ma nel giorno della festa patronale tutti gli uffici sono chiusi. E vediamo i commenti. Una vergogna con noi la provincia protagonista della festa. Continuiamo al pontificale. L'amministrazione non siede nemmeno tra i banchi del Duomo. Moretti esprime solidarietà ai lavoratori delle fonderie Pisano durante l'omelia. E poi la segnalazione, il cup è chiuso per la festa patronale. Intanto però il sindaco era impegnato. Lasciamo questa prima pagina, questa pagina dedicata alle notizie della festività di San Matteo. Festività che ricordiamo si è tenuta ieri. Era ieri, infatti, la giornata proprio dedicata a San Matteo. Ora andiamo nelle pagine interne dedicate alle notizie della parte sud della provincia di Salerno, in particolare del Cilento e del Vallo di Diano. Il titolo di apertura, Sala Consilina, scuola comunale inagibile. L'acquisto solo cinque anni fa, la delibera di 420 mila euro fu approvata all'unanimità. Solo due furono gli astenuti. Un controllo sull'adeguatezza sismica rivela la pericolosità dell'immobile che ospita i ragazzi dell'Istituto a Trinità. Lago Negro, Orchia Processo, se viziate due giovanette. Mentre in Basilicata, Napoli e Castelluccio, scongiurare il pericolosismo nei plessi scolastici, le risorse finanziarie possono essere attinte dal piano di azione e coesione direttamente dalla regione. Infine, di taglio basso, andiamo a buon abitacolo. Stop per lo scuolabus e le mense scolastiche non partono. Monta la protesta delle famiglie contro il provvedimento del commissario prefettizio. Lasciamo anche queste pagine di Le Crona che ora andiamo a sfogliare. Andiamo a vedere quali sono i principali temi per la Nuova del Sud, quindi per il quotidiano della Basilicata. Il titolo, un altro asilo di botte e insulti, potenza sospese tre maestre di una scuola materna per i maltrattamenti e i danni dei piccoli alunni. Dopo la denuncia di una madre, gli inquirenti hanno piazzato le telecamere e dai filmati sono emerse violenze fisiche, oltre che verbali. Continuiamo, bonus gas, ora imperatrice sbotta, replica a Robortella, basta pretendere ristori per danni che non si subiscono. Il sindaco di Grumento risponde anche a Grieco, restiamo uniti, pericolo referendum. Continuiamo, di domenica a Matera non si arriva e non si parte, con Bari solo bus e nessuna coincidenza. Per lo sport Melidoro si regala l'argento, in equitazione il Cavaliere Policorese secondo ai campionati italiani di Arezzo, mentre in Lega Pro il ganese Obeng è il nuovo mediano del Melfi. E poi incidente sulla Isca Pantanella finisce col camion nella scarpata. E con questa pagina di La Nuova del Sud chiudiamo la nostra rassegna stampa, vi ricordo l'appuntamento con il notiziario di Uno News alle ore 13.45. Grazie per averci seguito e auguro a tutti una buona giornata.